Bababia ragazzi, che goduria! Bababia, ho il cuore che pulsa ragazzi! E io ho parlato con l'amministratore dei conti. Sapete cos'è successo? Dopo la partita abbiamo aspettato i giocatori e abbiamo fatto le foto. Le metteremo poi sulla nostra pagina, il PJ Show, e anche su Instagram e su Twitter. Abbiamo chiesto a Sababia e a Sarri. Sarri rimane con noi, di Guardiola ci hanno smentito che non c'è nessuna possibilità che arrivi. Costa troppo. Costa troppo. Però adesso il nostro allenatore è Guardiola e un domani poi si rivedrà. Per ora come ora Guardiola non se ne parla. Comunque, a parte questa cosa, la partita di oggi. La Juve oggi sì, ci è piaciuta, però oggi è stato un po' come uno scorpione che avesse paura di pungere con la sua chela. Ci sono stati pochissimi tiri in porta. Sì, abbiamo giocato, possesso palle e tutto, però pochi tiri in porta. Siamo stati troppo poco cattivi. Oggi mi è piaciuto veramente tanto Quadrado. Oggi Quadrado a noi ci è piaciuto tantissimo. È stato uno dei migliori in campo. E adesso saluto il mio amico, un nostro amico che ci segue da YouTube, dal nostro canale. Antony. Antony e Quadrado, ciao. Chiedi scusa a Quadrado perché Quadrado oggi è stato fantastico. Quadrado sì, è stato fantastico, però comunque... Quadrado. Quadrado, eccolo qua, Quadrado. Se avesse fatto magari qualche tiri in porta, se avesse osato un po' di più, sarebbe stato un MVP di questo pomeriggio. Sarebbe stato il top. Rabiù, Rabiù, titolare fisso. Rabiù, mi è piaciuto tanto. Finalmente c'è Rabiù. Rabiù sta giocando bene. Sei il mio centrocampista. Sei la mia pedina fondamentale per il centrocampo. Piani. Piani c'è cinque minuti, si era già stirato. Ma passiamo a quelli che hanno giocato bene. Come di senso? Piani. Piani c'è via! E viene Pogba! Di bala anche. Di bala. È greggio quest'oggi, non ci ha fatto rimpiangere Ronaldo. È greggio. Quelli che ci sono piaciuti di meno? Bonucci. Via. Bonucci. Adesso che... Tra l'altro bentornato Chiellini, bentornato capitano. Chiellini titolare Bonucci in panchina. Hola. Ramsey. Tanto possesso palla, ma poca fluidità. Tanto fumo e poco arrosto. Abbiamo visto anche Balotelli. Ma Balotelli è la solita testa di cazzo. Ma chi ti vuole Balotelli? Ma chi cazzo ti vuole? Altri invece? Di bala è stato migliore in campo. Invece parliamo di peggiori. Quelli che non ci sono piaciuti. Ramsey non ci è piaciuto. Alessandro qualcosina fa. Ma proprio il minimo del minimo. Bentancur. Ma Bentancur. Vabbè, una partita normalissima. Danilo. Danilo. Oltre la sua metà campo non va. Douglas Costa non c'era. Higuain ha fatto poco o nulla. Sinceramente. Perché non gli arrivavano neanche i palloni. Ma Sarri. Ma Sarri. Oggi se le cavate. Perché abbiamo vinto la partita. Se Sarri imparassi insomma. A muovere di meno la lingua. E pensare di più. A lavorare. Perché ci sono tante cose da fare. Durante questa stagione. Stiamo facendo una lista. Lunga così. Di giocatori da tagliare. E giocatori possibilmente da comprare. Noi diciamo già. Dai. Via Pjanic. E viene Pogba. Due. Via Bonucci. E piuttosto mi prendo Coulibaly. Gli facciamo fare il vice Iguain. A Iguain gli facciamo fare il vice Icardi. Quattro. Abbiamo già trovato. Via Bernardeschi e dentro Kuluseschi. Cinque. Cinque. Cinque e ultimo. Via Douglas Costa. Dentro Federico Chiesa. Ok. Io voglio. Come si chiama? Bappè. Eh Bappè. Eh Bappè. Eh ma Bappè. Piacerebbe a tutti noi. Io voglio Messi. Eh Messi. Magari. Ciao amici. Ciao ciao. Ciao.